Allora, ho bisogno di un consiglio, che poi più che un consiglio è che ho bisogno che voi mi assecondiate Sto per andare ad un evento, ti puoi vestire come vuoi, non c'è un dress code, puoi vestirti sportivo, elegante, come vuoi Quindi ho detto per fare una veti mezzo mi metto un vestito nero, così sono elegante ma non troppo Però guarda che ho detto, cioè il vestito nero non è una roba che mi piace tantissimo, per carità me lo metto Però, non lo so, non mi fa impazzire, quindi ho detto, opto per una cosa un po' più Quindi ora lo faccio vedere e ditemi cosa mi pensate Il vestito che vedrete è aperto perché sono in camera da sola e nessuno me lo può chiudere, dietro non ci arrivo Quindi lo chiuderò dopo Allora, questo è il vestito, è corto sotto, però è così, davanti è così, dietro è così, è aperto Che dite? Vi piace? Non lo so Perché a me piace, sicuramente secondo me è meglio il vestito nero Il vestito nero, cioè, te lo metti pure per... non lo so, cioè il vestito nero me lo metto sempre Quindi, che dite? Cioè, se non vi piace me lo metto comunque, però me lo metto magari, mi sono un po' più dispiaciuta, capito? Non lo so, vabbè fatemi sapere, ciao